In questo video ti mostro come controllare che tipo di versione hai installato di Whatsapp per verificare se necessita di un aggiornamento e se rientra in una di quelle vulnerabili agli attacchi del virus appena introdotto. Allora, lancia Whatsapp, in alto a destra troverai tre pallini per le impostazioni, cliccaci sopra, clicca su impostazioni, sotto vai su aiuto, clicca di nuovo, l'ultima voce al menu è info app, cliccaci sopra e ti apparirà la versione di Whatsapp attualmente installata che è quel numero 2.19.134. Nell'ultimo caso del virus Pegasus è stato segnalato che tutte le versioni che hanno un numero inferiore a 2.19.134, per esempio 2.18 oppure 2.14, qualsiasi poi siano le tre cifre successive, sono vulnerabili al virus e quindi necessitano un aggiornamento immediato per non essere vulnerabili ad attacchi informatici.